Fermi, 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 non schippate l'intro perché devo spiegarvi assolutamente delle cose. Ascoltate bene perché questo video ha bisogno per forza di una spiegazione. Perché sono 18 minuti di gameplay in cui ho riassunto 5 partite di Fortnite Battle Royale. Avete capito bene, 5 partite di Fortnite Battle Royale riassunte in soli 18 minuti. E voi direte, vabbè Gigi, ma allora sono partite tristi con poche kill. Sì, ci sono poche kill, adesso vi spiego il perché, ma sono 5 vittorie reali. 5 vittorie reali con una skin che mi mancava ancora da portarvi con la vittoria reale. Ed è per questo il motivo del video. Ci sono poche kill, ragazzi, perché è stato un pomeriggio in cui mi sono messo con i miei amici a fare le sfide del pass battaglia. E voi direte, Gigi, ma l'hai shoppato tutto perché ti stai mettendo a fare le sfide? Perché ci sono dei premi che vanno vinti facendo le sfide. E quindi, ragazzi, mi sto mettendo a fare le sfide anch'io e l'ho fatta in compagnia. Ma la cosa bella, ragazzi, è che io non mi sarei mai aspettato di vincere o comunque di fare tante vittorie. E quindi non mi sono messo a registrare, o meglio, c'era la registrazione sempre attiva, ma registravo solo la mia voce e il gameplay. Tra l'altro, neanche alla qualità massima solita. E infatti, proprio per quello, vi volevo dire che non ci sarà la facecam. La qualità è leggermente inferiore, ma si può godere tranquillamente il gameplay, tranquilli. E, raga, appunto, le poche kill sono dovute dal fatto che abbiamo pensato più alle sfide che a giocare normalmente. Ma la cosa bella, ragazzi, è che tutte queste vittorie sono arrivate abbastanza casualmente. Nel senso, sì, volevamo vincere, ma il nostro obiettivo era fare le sfide. Ci abbiamo messo circa 7-8 partite per fare le sfide. E abbiamo fatto 5 vittorie reali, come il ratio di vittorie è altissimo. E infatti, ragazzi, ho detto no, queste 5 vittorie reali gliele devo portare per forza. Quindi, raga, sono 18 minuti colmissimi d'azione. Perché praticamente in 18 minuti vi ho riassunto 5 partite, quindi circa 3 minuti e mezzo a partita. Ho messo solamente le azioni, quindi, raga, veramente non c'è da annoiarsi. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'este fatto. Tutti i gameplay delle altre skin le trovate qui in alto a destra nelle schede, anche il video in cui ho shoppato tutto. Spero abbiate capito più o meno la situazione, anche perché non stavo registrando. Tranquilli, raga, dalla prossima volta registro tutto perché può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E niente, anche se in ogni partita ci sono poche kill, credo che riassumendo così possa venire fuori un bel video. Ho parlato anche troppo, ma dovevo per forza fare quest'intro. Buona visione. Eh no, infatti, infatti, andiamo, andiamo. No, è dato a me. Preso, atterrato. Doppio, qua davanti. No. Ebbene, posso tenere io. Buon mammo. Dobbiamo stare attenti ai possibili amicotti. Eh, ma aspetta perché è possibile che ci stanno amici, capito? Perché comunque ho avuto la danno a scu... Ah, così se devo... Elimina, elimina, elimina. Di tutti e due Ah c'è C'è stanno C'è stanno fortino qua No sotto 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 Mattia Oh Eh coprite là Noi pensiamo a questi Stanno qua stanno Uh l'ho atterrato Regà Uh però c'è chinano pure da da là Occhio copritevi a destra Eh ma quelli dell'altra montagna Eh noi mo se dobbiamo muovere regà Ce l'avete un trampolino? Andiamo a pia il trampolino Che hanno usato questi Hanno usato un trampolino Eh laggiù No Ma perché non ti sei fatta i pedane? Eh no No noi siamo scesi da da là però No l'hanno distrutto il trampolino No no quello si Io già ce sto Però Oh siamo cinque Quindi due contro due Fla No no due contro due Perché uno è Matteo Sì infatti sta Eccoli visti Sì Stanno dentro qua a casetta Mi sa Secondo me hanno appena fightato con quest'altro Te lo dico io Eh allora Uno secondo me sta Vai Ci arriviamo secondo te Prova Ok Uh ci sta una pusha Vai vai io li sto a distrarre da te qua Eh Bravo Bravo Lo so, lo so Ma dove sta? Oh, bravo, fla Io gli avevo tolto un sacco Gli avevo tolto un sacco qualcosa Cioè è andata a mirar a me Gli avevo tolto un sacco Bravo Occhio, ma te Oh, è one shot Gli ho tolto tantissimo Sta là sotto Ah, ma già erano saliti Ehi, non vedo l'altro Non vedo l'altro, ragazzi Ah, eccolo Eh, se questo continua a rompere Oh, grande, fla E io sto qua tranquillo a vedere la situazione Eh no, l'ho lasciato L'ho dovuto lasciare Allora, uno l'ho eliminato Uno l'ho eliminato Stanno tutte e due Quella, del là Quell'altri Sicuramente Sì Oh, l'ho attirato No, no, regà Non potete capire Vai, vai, vai Andiamo, andiamo, andiamo Devo pushare, regà Dai Bravo, 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 bravo Spara, spara, spara Bravi, regà Ma che c'avevano C'avevano il trampolino C'avevano il trampolino Eh, allora dopo lo fammo noi Gli ho tolto un botto Eliminati Uh, ma c'è uno qua Sì, sì, ho visto Infatti, adate Ah, tu quell'altra è atterrata Ok Mamma mia Che cazzo ho fatto Mi sono sbagliato Eh, c'ho solo otto colpi Però, eh Qua Regà No, ma te Perché No, ma te Eter No Qua doiamo Qua doiamo solo Qua doiamo solo Aspettare Eh, lo so Lo so Aspetta 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 Eh, stanno a sfornare De granate Eh, lo so Eh, sono morto Si P joint Ah Ah Sperta Oh Oh Well Sì ma finché ho materiali L'hai grande non me lo... Eh l'ho finito Eh sì Io però ho finito i materiali raga Uh Sì Luce è uno qua davanti Qua a est Mi stanno a sparare Come dentro la casa? È uno... È perché ne ho atterrato uno Ecco perché è andato di qua C'è altra gente dietro Eliminato Eliminato Uh stanno qua sotto Stanno Ok uno l'ho atterrato E l'altro? Eh eccoli Eccoli Stanno arrivando Oh un colpo è morto eh Oh dannato Mazza non è morto Quante cazzo di là c'ha? Fan bene C'ho io credo Eh ma qua se andiamo a chiudere Ma c'è uno qua dentro Stanno qua dentro Regà Ma no dai Eh qua dentro stanno No va Qua sotto Ragazzi Stanno qua sotto Oh Oh Sì Eccolo Ce n'è uno qua sotto raga È l'ultimo sta qua sotto Eh sta qua sotto sta qua sotto Qua Alle scale io gli ho tolto un botto raga è quasi morto Bravo Atterrato Ho eliminato l'altro Comunque non so se avete visto che vi stavano a spara' Eh vaffanculo Ma l'ho provato Grande flam No Oddio raga L'ho atterrato col cecchino Scusa Matteo Ok ragazzi allora lo sapete di solito non festeggio così tanto Per una cecchinata ma in questa cecchinata Ho esultato così tanto per un motivo Perché poco prima quel cecchino Me lo aveva chiesto il mio amico Matteo Che con cui ho una sorta di disputa tra virgolette Con cecchini ma alla fine è una cosa Per scherzare tra amici e non gliel'ho voluto dare E quindi diciamo ho voluto enfatizzare quel momento In cui sono riuscito a fare una kill col cecchino Per marcarla per bene E niente Era una cavolata così Volevo semplicemente spiegare perché ho esultato così tanto Niente Buona continuazione Ok a me mi ha dato la kill Quel team è morto Quel team là sotto è morto Sì No no Quello che stavamo sparando prima Questo qua mi arriva con lanciarazzi in testa Regà lasciatemi qualche colpo Lasciatemi qualche colpo d'assalto Uh l'ho visti L'ho visti Stanno a 158 Regà C'era qualcuno il trampolino Ma te dammelo 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 Eh lo sono andato a prendere io Eh l'ho eliminato L'ho eliminato Regà ma non è scarso eh Sta qua dentro Ah tanto E l'ho eliminato Grazie a tutti.